E' nei mari aperti e puliti che vivono i tonni migliori, quelli della pregiata qualità pinne gialle, dal sapore inconfondibile, il sapore rio mare, perché da sempre rio mare sceglie solo qualità pinne gialle, perché il tonno pinne gialle è più compatto, più ricco di sapore, più tenero, così tenero che si taglia con un grissino. Tonno rio mare, qualità pinne gialle.